Oggi parlavo con una mia cliente di fontane. Questa persona ha una casa abbastanza grande, ha varie terrazze e vorrebbe delle fontane su queste terrazze. Vorrebbe dei giochi d'acqua, vorrebbe insomma tutta una serie di cose per cui ci siamo messi a riflettere proprio sulle fontane, sulle fontanelle anche piccole. Non voleva cose mirabolanti, bastava anche una piccola quantità d'acqua in movimento e ci siamo messi a riflettere sui pro e i contro di una fontana in uno spazio come quello di un terrazzo. E allora ne parlo a te. Io sono Francesco Cecchetti e questo è Giardino Rivelato, un podcast per chi pensa che tu, io, noi, voi, essi, loro, egli, ella, insomma tutti abbiamo bisogno di un giardino. E proprio perché ne abbiamo bisogno tutti è importante riflettere sulle cose che nel giardino entrano e non entrano, su quello che decidiamo di lasciare fuori, su quello che decidiamo di fare entrare, su quello che decidiamo di tenere e magari modificare secondo le nostre necessità, secondo le nostre richieste, secondo la nostra, le nostre scelte, le nostre questioni etiche ed estetiche che ci portiamo dentro. E la fontana è una questione molto importante nel giardino, è molto importante perché la fontana fa il giardino, la fontana è parte integrante dell'anima del giardino nella storia, sicuramente lo è nel giardino occidentale, sicuramente lo è nel giardino del cosiddetto vecchio mondo, sicuramente è importante l'acqua nei giardini orientali, estremo orientali. Al di là dell'acqua utilizzata per far vivere le piante, e chiaramente questo è necessario, un corpo d'acqua, un corpo acquatico, un bacino idrico per quanto di dimensioni ridotte, è parte integrante della vita del giardino e dell'immaginario del giardino. E questo immaginario si porta dietro tante cose, quindi parliamo di pro e contro di una fontanella all'interno di un giardino o di un terrazzo, immaginiamo un terrazzo. Innanzitutto, quale può essere un pro di una fontanella? Sicuramente l'idea di avere dell'acqua. Certo, che tipo di acqua? Dell'acqua in movimento, dell'acqua che faccia un suono, dell'acqua che mi culli, che mi coccoli, che mi accompagni, dell'acqua che sia fresca, dell'acqua che sia non stagnante, che dia idea di freschezza, di pulito, di una natura che in qualche modo, anche se sto su un terrazzo, anche se sono in un giardino, non mi ha abbandonato e che io non ho abbandonato. Quindi tutte le fontanelle, in un certo senso, sono, se vogliamo, simboliche, sono delle cose che portano anche un'idea che noi abbiamo. Come dire, una sorta di tributo, di memoria, di un ruscello che avrebbe potuto scorrere dove mi trovo. E quindi devono essere belle, sicuramente devono incontrare il nostro gusto estetico, ma possono essere molto ragionate, molto studiate, possono essere molto progettate, possono essere molto artificiali e quindi magari portare umidità solo negli immediati dintorni dell'acqua, oppure possono essere più o meno naturalistiche e a seconda di come facciamo queste fontane che poi magari sono diventati dei laghetti, andremo a cambiare l'habitat che abbiamo lì, l'ecosistema, il micro ecosistema, il microclima che abbiamo nel nostro giardino, attirando animali di vario tipo, attirando insetti, insetti predatori di altri insetti, uccelli e quindi portando vita. Certo, ci sono dei contro nelle fontanelle, c'è uno spazio che occupano soprattutto quando ci occupiamo di terrazzi, come nel caso di cui ti parlavo oggi con la mia cliente. C'è il problema della manutenzione, le fontane non sono gratis in termini di impegno. Certo, magari si possono fare in modo tale che abbiano bisogno di meno manutenzione, ma c'è bisogno che si muovano, c'è bisogno che siano pulite, che non ci sia un ristagno d'acqua per evitare che, insomma, che il tuo terrazzo, che il casa tua, che questa fontanella diventi un ricettacolo di batteri, alghe e zanzare. E quindi c'è anche bisogno di energia, energia elettrica per far funzionare il motorino della pompa che metti nel giardino per far funzionare la tua fontana. Sto immaginando, ad esempio, che tu prenda un bacile di legno o di plastica addirittura e che ci metta dentro una pompa e che tu smuova l'acqua, giusto per avere il suono dell'acqua. Immaginiamo una cosa del genere. Comunque c'è bisogno di elettricità, comunque c'è bisogno di acqua. E quindi c'è la questione di come si utilizza l'acqua, perché certo io posso decidere. Io ho una fontana con ricircolo, quindi l'acqua non la spreco, ma magari non mi va di farlo, magari non lo faccio bene, quindi cambio l'acqua ogni due o tre giorni e quest'acqua di fatto viene sprecata. E quindi quando io faccio una fontana, nel modo in cui la faccio, racconto anche il mio modo di vedere, le risorse che utilizzerò per fare il giardino. Se sono solo per il mio diletto, per il mio piacere, o se invece voglio farne buon uso e accetto il fatto che questa fontanella magari è un lusso, soprattutto se è una fontana, non lo so, di design, che appunto non è un laghetto come stavamo dicendo prima, ma ha una funzione limitata, limitata e filosofica se vogliamo. E quindi questa fontana si porta dietro un sacco di riflessioni e mi piace parlarne con le persone che mi chiamano per realizzare un giardino, perché se noi andiamo a scavare su quello che noi vogliamo, o meglio, riformulo la frase, se noi andiamo a scavare sul significato di quello che noi vogliamo nel nostro giardino, scopriamo un sacco di cose di noi e di come ci rapportiamo al nostro giardino. E questo ci aiuta a vivere molto meglio, secondo me. In qualche modo diventa più nostro il giardino. Le scelte che facciamo hanno un senso, hanno un motivo e hanno una storia, non è semplicemente un desiderio estetico di arredamento. Quindi vorrei sapere qual è la tua esperienza, se ne hai, con fontanelle. Può essere anche veramente una bacinella con uno spruzzino. Magari hai fatto un esperimento, hai provato a fare un vaso con dell'acqua sul tuo terrazzo, o magari hai scavato una buca e hai visto perché avevi il terreno argilloso, oppure ci hai messo una busta di plastica. Insomma, qual è la tua esperienza con le fontanelle? Se hai un terrazzo, una terrazza, e hai deciso di metterci dell'acqua, vorrei sapere qual è la tua esperienza anche con questo, perché c'è una questione di spazi, no? Di vivibilità, di manutenzione. Insomma, raccontami la tua esperienza e dimmi quello che ne pensi. E condividi questo episodio con una persona o due persone o tre persone che pensi possano essere interessate a questa discussione. Se vuoi aiutare Giardino Rivelato, puoi farlo iscrivendoti al podcast, al canale, mettendo tutti i like del mondo e anche commentando. Chiaramente questo aiuta il podcast a diffondersi di più. E se pensi che sia una bella impresa, quella di parlare a più persone possibile, far arrivare a più persone possibile in maniera gratuita un discorso che riguarda giardini, paesaggio, il nostro rapporto con la natura, puoi aiutarmi finanziando il podcast su Patreon con una donazione mensile. E se vuoi rimanere in contatto con me lo puoi fare su giardinorivelato.it. Lì puoi trovare tutti i link appunto per rimanere in contatto e se vuoi anche per prenotare una consulenza. E a questo punto io ti saluto e ti ringrazio di aver passato questo tempo con me a chiacchierare con la scusa dei giardini.